Cinque consorsi di bonifica, tutti commissariati, con gli agricoltori che chiedono risorse e la regione che in risposta rinvia solo le elezioni per il rinnovo degli organi dei consorsi. Il centro-sinistra oggi in conferenza ha spiegato la situazione e la gravità della stessa. Pepe, Di Benedetto e Pietrucci, ma con la condivisione di Blasioli, Scoccia e Mariani, hanno spiegato che stanno preparando un dossier da inviare all'autorità. L'indizione delle elezioni e il successivo blocco ha avuto un costo per gli anti di bonifica, infatti i consigli a richiedono se c'è stato uno spreco. Ora il centro-sinistra chiede gli atti per ricostruire le spese consorzio per consorzio. Per l'opposizione l'atteggiamento della regione scontenta in tutte e per tutto gli agricoltori che invece avrebbero bisogno di sostegni. Zero programmazione e nessuna risposta alla crisi. Un mondo quell'agricolo per l'opposizione imbavagliato per quattro anni dalla giunta a Marsilio. Erano presenti anche le associazioni. In tema di gestione della risorsa idrica, poi l'Abruzzo su 1,62 miliardi di euro per 149 interventi disponibili nel PNRR prende zero. In Abruzzo si assiste per loro a ben quattro rinvii. Siamo al quarto anno di commissariamento. L'aggiunta Marsilio Imprudente ha messo il bavaglio agli agricoltori abruzzesi, non risolvendo nulla dal punto di vista economico-finanziario, dal punto di vista gestionale. Abbiamo perso ogni opportunità di avere fondi del PNRR. Tra tutti i progetti presentati in Italia, l'Abruzzo è riuscito a prendere zero per quanto riguarda il miglioramento delle nostre reti idriche. Pensate che dalla riforma dei consorsi approvata nel dicembre 2019, già il centrodestra ha votato quattro volte il rinvio delle elezioni consortili. Le associazioni di categoria hanno chiesto con forza risorse, fondi, strumenti per migliorare le condizioni, ma tutte le organizzazioni sono state deluse anche dall'ultimo passaggio in Consiglio, che ha rinviato di un anno le elezioni consortili già indette e quindi con lo sperpero di fondi pubblici a carico degli agricoltori. In più con questa crisi pandemica non sappiamo più come far fronte ai tanti problemi dei consorsi di bonifica. Ma la Giunta Marsilio ha pensato bene di rinviare solamente le elezioni, quindi rinviare a un anno la situazione assolutamente grave che stanno vivendo gli agricoltori, gli enti e soprattutto le organizzazioni di categoria. La gestione commissariale hanno ricordato i presenti doveva durare sei mesi, nove mesi al massimo. Oltre a questo il fondo di rotazione di 20 milioni non è mai stato attivato, nessuna definizione di competenze per la captazione delle acque, zero fondi per superare la crisi e per quel che riguarda il consorzio di bonifica centro c'è stato un aumento consortile del 50% della tassazione a carico dei contribuenti. Le organizzazioni di categoria sono state chiare, che vedevano strumenti normativi ma anche risorse per intervenire sul caro energia e sulla gestione di questi consorsi. Non sono stati ascoltati e la maggioranza ha pensato bene di fare un semplice emendamento all'interno di una norma intrusa per rinviare di un anno le elezioni.